La scuola in carcere è una delle cose più sensate da fare. Nel suo intervento ha molto sottolineato il percorso degli ultimi decenni su questo progetto di recupero e di rieducazione. La scuola come momento di formazione, quindi non soltanto il puro e semplice insegnamento, quanto un lavoro di elaborazione su se stessi. E quindi un rapporto che consente anche di rivedersi nella relazione con la società e con gli altri. Questo direi è il significato più vero della cultura, che nel carcere non ha soltanto l'obiettivo di fornire strumenti di conoscenza e di crescita, che pure è un obiettivo importantissimo, ma ha anche l'obiettivo di ricostruire quella che si chiama la rieducazione, cioè una relazione anche di carattere etico, diverso, una relazione che rivede i valori, in sostanza, della persona. Insegnare in carcere è un'esperienza che per un insegnante ha un'altra dimensione? Sì, anche se io ho scelto di insegnare in carcere. Io provengo da altre scuole, ho insegnato in un liceo classico, e poi ad un certo punto della mia vita ho scelto proprio di insegnamento qui in carcere. All'inizio non mi sono posta dei criteri, ho voluto proprio osservare, fare attenzione a quello che poteva capitare dentro di me e fuori di me. Non ho mai chiesto ai detenuti quale reato avessero compiuto, proprio per evitare che il reato arrivasse prima della persona. Insegnare in carcere significa creare una relazione comunicativa, importante, bionivoca, ristabilire e restituire alla scuola il suo ruolo di formazione e di educazione. Essere liberi dalle logiche delle competenze, del fare a tutti i costi, quando più che mai in questo momento bisogna essere e diventare persone. Voi siete all'interno del carcere anche degli osservatori di una realtà che viene descritta anche dall'Unione Europea come una delle realtà più difficili anche sul profilo dei diritti dei detenuti. Il diritto di istruzione è uno dei diritti, ma come si combina con il resto della condizione carceraria? Diciamo che le carceri in Italia, bisogna fare una distinzione tra carcere e carcere. Ogni carcere è un mondo a sé. Ci sono carceri dove l'esigenza del sovraffollamento è molto sentita, carceri come ad esempio il nostro di Secondigliano, dove in realtà non c'è una vera e propria emergenza di sovraffollamento, al contrario ad esempio di Poggio Reale. Allora in queste carceri magari si esce meglio a gestire attività come la scuola, anche perché poi ci sono anche gli spazi che lo permettono. Ovviamente in carceri sovraffollati questo non succede, quindi laddove questo non c'è ovviamente le esigenze sono alte. Certamente non è la scuola, ma le altre sono le esigenze. E la stessa composizione del mondo carcerario in termini di nazionalità, di lingue, di culture? Allora per esperienza diciamo io insegno a Secondigliano, Secondigliano è in realtà un po' diverso rispetto alle altre, perché in realtà comprende soprattutto detenuti regionali, sono pochi in realtà gli extracomunitari. Solo negli ultimi anni diciamo sta aumentando la proporzione, solo che invece nelle realtà nelle carceri del nord la percentuale di detenuti, anche quindi di alunni che frequentano è quasi al 50% di detenuti extracomunitari o anche comunque stranieri che frequentano corsi scolastici. Il gruppo classe che c'è all'interno di un carcere è intanto un gruppo classe fortemente eterogeneo, eterogeneo per provenienza culturale, ma eterogeneo anche da un punto di vista anagrafico. Io ho alunni di 20 anni, alunni di 70 anni all'interno di uno stesso gruppo, il che rende necessario ed urgente che ci siano anche delle forme di formazione per gli insegnanti. E dunque questo nel momento in cui è stato rappresentato ha trovato bisogno di riascolto. È ovvio che ci sono delle criticità all'interno di questa riorganizzazione e oggi qui noi siamo in una tavola rotonda con i dirigenti che stanno mettendo in campo l'avvio tecnico di questa riorganizzazione e che ci hanno rappresentato delle difficoltà. E nella seconda parte, nel pomeriggio, ci sarà la tavola rotonda dei docenti che sono invece attivi in questa riorganizzazione perché naturalmente questa riorganizzazione non può semplicemente essere una razionalizzazione con eliminazione di organici e riduzione del tempo a scuola. Non esiste paese che io conosca in cui la istruzione, l'educazione non sia un elemento, un ingrediente fondamentale all'interno del carcere, proprio perché si riconosce che il tempo della pena che deve essere riempito con molte cose, il lavoro, lo sport però non può prescindere dall'istruzione, dalla formazione culturale. Quindi il ruolo degli insegnanti? Quindi occorre che la scuola e soprattutto la scuola pubblica e questo è un convegno della scuola pubblica si considere lo spazio carcere come uno spazio che non è fuori dal territorio nazionale, non è fuori dalla città ma fa parte della città, è un rione, un quartiere. Grazie per la visione!